Il parcheggio di Porta Capucina torna al centro del dibattito pubblico. Questa volta a chiedere spiegazioni sul futuro dell'area di sosta di cui quotidianamente pendolare i cittadini usufruiscono, sono i consiglieri del gruppo Lega. Tante le tappe che costituiscono il percorso travagliato al centro del quale si colloca il parcheggio, oggetto di un contenzioso legale tra Comune e la società Porta Capucina, proprietaria dell'area. Le ultime vicende risalgono a poche settimane fa, con la richiesta formulata dal legale della società nei confronti del Comune, di rispettare l'impegno preso precedentemente e revocare la delibera emessa a luglio 2020, con la quale l'amministrazione riconosce l'interesse pubblico dell'area e punta ad espropriarla. Per capire dunque le effettive intenzioni dell'amministrazione comunale, che ha ribadito più volte di non voler procedere all'acquisto della zona per cifre fuori mercato, il gruppo Lega ha presentato un'interrogazione per la quale attende una risposta già nel prossimo Consiglio Comunale. La questione non è chiara, o meglio, il Comune ha utilizzato il parcheggio per più di 20 anni a titolo gratuito. Soltanto nel 2012 ha prontato un accordo con la società proprietaria dell'area. Ha proceduto con tutte le verifiche e anche sulla quotazione dell'area, accettando anche il prezzo di acquisto dell'area, 515 mila euro più IVA. Improvvisamente però, nel 7 luglio 2020, con la delibera numero 133, il Comune rettifica la sua scelta e avvia le procedure per l'esproprio, per utilità pubblica. La cosa lascia sconcertati, lascia sconcertati da un punto di vista politico, perché un politico quando dice una cosa e mette nero su bianco quello che dice, lo deve portare avanti e quindi da un punto di vista di serietà. Ma lascia sconcertati anche per quello che i dirigenti dell'amministrazione comunale hanno fatto. Cioè noi stiamo portando il Comune a rischiare un procedimento giudiziario, infatti il 22 ottobre già si sarà la prima udienza fissata presso il Tribunale di Pesero dove la società Porta Capucina chiaramente andrà a tutelare i propri diritti, ma a quel punto il ricorso eventuale al TAR, che qualora dovesse dare ragione e quindi annullare la delibera 183 emessa dal Comune nel mese di luglio, rischierebbe di far sì che il Comune paghi sanzioni per oltre il prezzo del bene, senza acquistarlo. Quindi noi avremmo un bene che non è più nostro, non lo possiamo più utilizzare e in più dobbiamo pagare di più di quello che avremmo speso per poter far sì che il bene diventasse nostro e fosse di utilizzo pubblico. Il Consiglio doveva essere chiamato in causa, ci doveva essere chiamata in causa la Commissione Lavori Pubblici, ci doveva essere chiamata in causa la Commissione Controllo Atti e Garanzia per valutare al meglio e soprattutto noi chiediamo di vedere che parere hanno dato gli uffici legali del Comune, che parere ha dato il Segretario generale da un punto di vista tecnico, perché a noi questa cosa non ci torna per niente. Il nostro pensiero come Lega l'abbiamo riposto in un'interrogazione ben formulata presso l'amministrazione comunale, della quale attendiamo un'accelere e pronta risposta, perché non possiamo assolutamente rischiare di buttare al vento un lavoro e una trattativa che è in corso del 2012 e soprattutto non possiamo regalare 800 mila euro per errori di un'amministrazione o forse anche di una dirigenza che magari non ha aperto gli occhi accuratamente.